Eccoci di nuovo con la nostra fitorubrica, siamo stati fermi per un paio di mesetti ma adesso ripartiamo. Con settembre si ricomincia a lavorare, si ricomincia a studiare, si ricomincia a fare tutto e quindi ricominciamo anche con i nostri video. Oggi vi parlo del ginepro. Ginepro significa acido, aspro, e ci si riferisce al suo sapore e al suo odore, che sono appunto acidi e aspri. Oggi trattiamo l'estrazione dai giovani getti. I bersagli principali di ginepro sono fegato, rene e articolazioni. Diciamo che questa è una pianta di cui abbiamo l'estrazione in macerato glicerinato ed è uno dei pochi macerati che focalizza la sua attenzione sull'asse epatorenale. Perché in genere i macerati hanno altre azioni e sull'asse epatorenale invece abbiamo di solito magari delle tinture madri, degli estratti secchi o fluidi. Perché contengono più principi attivi e quindi hanno un'azione un po' più veloce e forte. Invece in questo caso abbiamo un macerato glicerinato che comunque lavora appunto sull'asse epatorenale. A proposito di questo l'urea viene eliminata meglio, di conseguenza abbiamo un'azione ipouricemizzante, quindi vediamo abbassarsi i livelli di acidi urici e un'azione conseguente anche sulle articolazioni. Che di solito quando abbiamo la problematica di acidi urici alti, quindi comunque iperuricemia, si tende ad avere anche dolore alle articolazioni perché gli acidi urici si accumulano in queste zone. Un'altra azione è quella di favorire il rapporto tra il colesterolo HDL ed LDL, o meglio conosciuto come colesterolo buono e cattivo. E riequilibrando in generale l'asse epatobiliare e quindi anche le secrezioni abbiamo un miglioramento anche a livello della digestione e sull'ambiente intestinale. Come ho detto all'inizio è un macerato glicerinato, quindi non abbiamo assolutamente controindicazioni ed effetti collaterali. Al prossimo video con la prossima pianta. Buona giornata!